Una nuova data per una nuova toppa, toppa dei 15, lasciate ogni speranza a voi che entrate. E' lei che dice? Niente. Dai, lei è il fondatore, una dichiarazione. Stop the secret. Una dichiarazione da fondatore, una istintiva, dai. Quello che ti vede. Più tardi, adesso non mi vedi. Dai, quello che ti vede. Dai, più tardi, adesso non mi vedi.